Non è stato certamente un capodanno sereno, così come il Natale, per gli oltre 100 dipendenti, o meglio ex dipendenti, della Agnesi d'Imperia. Il 2016 è stato infatti caratterizzato dalla chiusura definitiva dello storico stabilimento imperiese dopo anni di lotte, confronti e promesse. I lavoratori si sono così trovati di fronte ad uno stravolgimento di vita, anche familiare, con il trasferimento oppure con il licenziamento, situazione che ha messo in ginocchio tante famiglie, con lavoratori non più giovanissimi e quindi con grandi difficoltà a trovare una nuova collocazione nel mondo del lavoro. Il 16 dicembre i dipendenti, ormai rassegnati, hanno voluto celebrare il funerale dello stabilimento imperiese dopo tanti anni di attività. Quel giorno è stato infatti prodotto l'ultimo chilogrammo di pasta, un triste simbolo epilogo di questa vicenda. Proprio in quelle ore, paradossalmente, il gruppo Colussi ha manifestato la propria soddisfazione per lo sviluppo e di forti investimenti per espandersi in Piemonte. Negli ultimi giorni dell'anno, poi, sono proseguite le operazioni di smontaggio dei macchinari che sono stati trasferiti presso il complesso di Fossano. Tutto questo tra l'amarezza di chi, nella Agnesi, ha vissuto per tanti anni o anche per tutta la vita. Noi oggi festeggiamo un funerale. No, scusate, mi spiace di non esserci riuscita a fare niente. Questo è il mio rammarico, la mia amarezza di tutto quello che abbiamo fatto. Non avrei mai immaginato che Agnesi chiudesse. Ci ho creduto fino in fondo, veramente, credetemi, ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto. Grazie. 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 Grazie.